Bisogna rimettersi in pari. Una volta uscito di qui, lei potrà certamente... Vedete la porta, dottore? Assolutamente no, caro amico. Sono felice di averla qui. Ma vede, lei è completamente guarito. Ed ho un bel po' di tempo. Non ho il diritto di tenerla qui all'infinito senza ragione. Dottore, io ricomincerò. Se me ne vado di qua, mi metterò ancora una volta a bere. Prima o poi. Cos'altro vuole che faccia? Notizie dall'America? No, nessuna notizia. E poi non c'entrano niente. Ma sì, sia paziente. Ma io sono paziente. Non ho fatto che aspettare. Tutta la mia vita. Aspettare che qualche cosa succedesse. Non so neanche io che cosa. E quelle sue angosce le abbia avute? Non sono delle angosce, dottore. È un'angoscia perpetua. Se saprà resisterà ancora un po', a poco a poco scomparirà. È questione di volontà. contraddizione, dottore. Come può fare appello alla mia volontà? Se il male è proprio al centro della mia volontà. Ed è proprio quella che lei sta curando. Lei non è sempre stato così.